La famiglia al centro di una serie di iniziative della strada d'Herveg. Vediamo di cosa si tratta. Primo atto del tritico di incontri che ruotano tutti attorno al tema della famiglia. Una serie di proposte firmate dal centro studi dell'associazione La strada d'Herveg di Bolzano che fanno da preludio ad un convegno in programma tra gennaio e marzo del prossimo anno dal titolo La famiglia nella gestione dei fenomeni di antisocialità. L'idea di mettere al centro famiglia nella riflessione sul tema dell'antisocialità nasce verificando e valutando un attimino il convegno del 2010 che vedeva nell'affrontare il tema antisocialità la famiglia sempre presente come elemento trasversale, sempre forte. Quindi l'idea di fermarsi attorno a ragionare su questo elemento ci ha sembrato importantissimo. Il primo della serie di appuntamenti era intitolato La famiglia tra il dire e il fare. Una tavola rotonda con Bruno Marcato, direttore dell'azienda Servizi Sociali di Bolzano. La famiglia deve essere sostenuta, non deve sentirsi insicura e deve riuscire a capire che bisogna vivere nella complessità e non bisogna pensare di trovare le strade semplici anche se si sa che pensare in maniera semplice ci dà l'idea che sia tutto più risolvibile. Ma invece fare famiglia vuol dire riuscire a pensare in maniera complessa, mettere insieme tanti temi. Il tema della coppia, il tema della famiglia, il tema del fatto che dobbiamo trovare assieme dei valori condivisi e questi trasmetterli ai figli, trasmetterli nella società con cui noi abbiamo che fare. Da questo primo confronto è emerso chiaramente che sono numerosi i fattori che incidono sulle questioni legate alla famiglia. Tra questi le situazioni lavorative, le problematiche di alcol e di uso di sostanze psicoattive e via dicendo. Prossimo appuntamento il 22 novembre con la conferenza che sarà tenuta sempre sul tema della famiglia dal dottor Rodolfo Tomasi, medico e psichiatra.